Buon sabato mattina a tutti voi benvenuti alla rassegna stampa che come tutte le mattine inizia insieme a voi la giornata i giornali sono pronti ma noi prima di tutto guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi sabato 22 agosto la chiesa osserva la beata vergine maria e regina il sole è sorto alle 6.19 e tramonterà alle 20.03 previsioni del tempo partiamo dalla nostra postazione meteorologica con i dati che potete trovare anche sul nostro portale internet e quindi consultarla in qualsiasi momento e di conseguenza vedere qual è l'evoluzione nel corso della giornata in questo momento ci sono 72% di umidità e una temperatura al suolo di 19 gradi e poco più vediamo la webcam che cosa ci rimanda come foto in questo momento ecco questa è quella che è stata immortalata pochi secondi fa vedete il cielo è molto sgombro da nuvole tranne sullo sfondo ed è stato immortalato anche in questo momento come vedete un bellissimo volo di uccelli vediamo la previsione che ci fa la protezione civile per oggi sabato il cielo è sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione le temperature sono in lieve flessione le minime e quindi sole pieno su tutta la regione anche per domani domenica nella provincia di pesero urbino vedete c'è un sole pieno qualche nuvole nuvola compare sul crinale a penigono quindi sereno poco nuvoloso nessuna precipitazione anche qui le minime per domenica sono in lieve diminuzione vediamo lunedì come si prospetta un lunedì un po' più impegnativo dal punto di vista del tempo piove sui rilievi e anche sulla costa c'è una nuvolosità parziale per il transito di nuvi medio-alte con maggiori addensamenti al ridosso dei rilievi come vedete e questa è la previsione del tempo per questo weekend tutto sommato ancora stranci di buon tempo per questa questo fine agosto vediamo cosa ci rimandano invece i giornali le notizie principali come sempre ve le facciamo vedere apriamo dal resto del carlino effettuato il prelievo di multi organi per veronica che ha donato reni e fegato il generoso gesto dei familiari della ragazza stroncata da overdose ancora nelle pagine del resto del carlino che ci rimanda un caso un caso di particolare di particolare insomma difficoltà per questa signora che oltre al danno anche la beffa perché paga l'affitto paga le tasse ma viene cacciata di casa lo stesso perché versava l'affitto in nero tenta di regolarizzarsi ma si trova sfrattata un cavillo che decide sentenza cancellata la norma che permette allo Stato di fare da controparte e negli ospedali spesso nei pronti soccorsi nelle stanterie insomma si vivono momenti poco felici a causa di tafferugli che possono scoppiare non per niente c'è stata vigilante in corsia della polizia il piantone era ottimale e a raccontarci le sue disavventure nelle pagine del resto del carlino c'è proprio un operatore sanitario un infermiere che insomma pronto soccorso dice è la legge della giungla la sua odissea racconta più che altro dalla sua esperienza molto toccante leggetto questo articolo ubriachi che picchiano folli armati di mattoni insomma nel pronto soccorso oltre agli ammalati c'è di tutto soprattutto nelle ore notturne la pagina di Fano del resto del carlino la fiera di San Bartolomeo è ai nastri di partenza perché lunedì da lunedì a mercoledì sul lungomare a Sassonia 240 espositori daranno vita a questo mercato che affonda le sue radici nel medioevo espositori per ogni tipologia di merce e quindi da lunedì avremo bancarelle nella Sassonia rimpasto in comune mascherin sinistro unita sul settimo assessore dice in giunta ci vuole qualità il sindaco staccano vista più di me e servono persone impegnate l'analisi dice chiede la città un cambiamento per ora non ha recepito il nostro grande sforzo anche dalla Val Cesano notizie per le trivellazioni in Adriatico ora anche l'associazione Fuori Tempo chiede aiuto ai politici lettera ai parlamentari vogliamo sapere di più su questo progetto il portavoce Montanari apre la busta sigillata sull'istanza di permesso che cosa succederà adesso e quindi insomma queste le piattaforme che si vedono a largo dell'Adriatico insomma creano sicuramente apprensione perché insomma non conoscere che cosa avviene crea sicuramente insicurezza andiamo a Senigallia con il Corriere Adriatico cambiamo testata per la tragedia che ha visto vittima quel ragazzo del Burkina Faso si getta sui binari la linea ferroviaria va in tilt questo gesto disperato di questo ragazzo il traffico dei treni ha subito rallentamenti pesanti ancora nelle pagine del Corriere Adriatico però è su Pesaro che ci focalizziamo nomine a scuola immensi in ruolo 243 docenti coperto tutto l'organico diretto ma resta il problema dei precari trasferibili fuori provincia e poi la pagina di Pesaro in taglio centrale l'evento che andrà in scena con gli anni 50 e 60 tanta musica balle e burlesche che nel tempo che fu in Viale Trieste serata dalle 18 tutta su questo tema che pare essere molto amato da tutti abbiamo il Summer Jambore qui vicino a Senigallia insomma questi gli anni 50, 60, 70 sono il leitmotiv degli ultimi anni nelle nostre estati andiamo però anche all'interno a Fossombrone sempre con il Corriere Adriatico per dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana nella superstrada il tratto interessato è Sant'Ippolito-Fossombrone-Est che vede da tempo un cantiere ci saranno delle possenti gru che sistemeranno dei cassoni in acciaio per appunto allargare i viadotti che attraversano questo tratto di superstrada cambiamo la città andiamo a Fano con il Corriere Adriatico muore per overdose e dona la vita anche qui vittima la donna di 32 anni prelevati reni e fegato quarto spianto nel 2015 al Santa Croce ed ora vediamo anche la notizia che abbiamo dato in apertura ieri nel telegiornale esplode bombola di GPL è una strage sfiorata le fiume si sono sprigionate per una fuga di gas una famiglia fiorentina proprietaria dell'immobile ma che trascorreva lì e le sue vacanze con due bambini riesce a mettersi in salvo le fiamme sono scaturite molto probabilmente da una errata sostituzione da una errata metodica di sostituzione della bombola appunto di GPL che serviva per alimentare la cucina della casa liberazione di Fano celebrata in tre giorni il comune e Lampi danno vita a un tre giorni commemorativa per questa pagina così importante di storia di Fano Pesaro per il messaggero apre con la visita di Renzi martedì prossimo in città tappa Pesaro il premio atteso dal sindaco Ricci per sostenere la candidatura a Città della Musica sarà allo sperimentale e a casa Rossini questa è la sua agenda fotonotizia differenziata non riuscita il nuovo centrodestra dice promesse non mantenute notti d'estate tra i rifiuti ancora due pagine del messaggero appunto Renzi arriva a Pesaro e cercherà di insieme a Matteo Ricci di suffragare questo primato di città della musica per quanto riguarda Pesaro casa Rossini e sarà anche presente all'inaugurazione dei mosaici in via dell'Abbazia un incontro di carattere culturale e appunto Ricci chiederà il sostegno per il riconoscimento musicale che è da tempo insomma che Pesaro rincorre e poi boom dei voucher parliamo di lavoro lavoro, uso, usa e getta nel senso che appunto vengono utilizzati i voucher per retribuire lavori saltuari ma c'è un indotto notevolissimo nel primo semestre utilizzato mezzo milione di ticket per un valore di 5 milioni di euro quindi insomma numeri importanti che sottolineano anche un'esigenza lavorativa notevole questi voucher vengono utilizzati anche da persone che hanno perso il lavoro insomma c'è tutto un discorso attorno ai voucher che utilizzano questa formula per lavori saltuari però insomma il volume ci dice anche la dimensione del fenomeno e delle persone interessate Fano per quanto riguarda il messaggero la giunta verso il rimpasto punta su questo argomento il quotidiano romano per Fano verso il rimpasto sale la tensione tra gli alleati il primo cittadino vuole calmare le acque però ieri ha diffuso una nota dove dice che si rimanda tutto a settembre come da programma tra i nodi al pettine lo staff del sindaco la presidenza consigliare e l'assessore in più pronti all'invasione delle bancarelle quindi ultima nota che vi faccio è questa qui sull'articolo che riguarda la prossima fiera di San Bartolo da lunedì torna la fiera ben appunto 240 ambulanti hanno già prenotato il loro posto bene questa era l'ultima notizia l'ultima pagina quella del messaggero come sempre che riguarda Fano grazie per essere stati in nostra compagnia per aver utilizzato questa prima forma di informazione nella vostra giornata Occhi ai giornali torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente come sempre buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti